Chi comincia? Pasquale Caposante gratinante Poi l'avionio al borgonso Ottima selda Con la crema di zucca e sastrazione In Gran Bretagna E scusi se non zucca Dopo allure la butta Invece Non è scherzato Non è scherzato Va bene Rosario Avrogata con un po' erano sce E poi E magari è Perfetto Fegato alla veneziana E dopo prendono le tagliatelle Con broccoli e salsiccia Fiatto forte Qual è? Che è questo sottile di mare Che è uno dei nostri signature dish Nessuno ha preso i calamari Che io consiglio vivamente Di assaggiare questi calamari Allora suve e calamari Wow Andiamo Perfetto Grazie mille Sono anche giovane Ma non è una cosa che mi timonisce Ragazzi comanda Grazie 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 Darò del mio meglio Ma non farò niente di più Di quello che non faccio tutti i giorni Continua Vai Lo passi Aspetta che ne manca stagli Sono una salenta Senza di avere tutte le carte in regola Per poter vincere Giuliano Aspettiamo Vai Signore Eccoci qua Buon appetito 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 Giuliano Feca con la Venezia Feca con la Venezia Feca con la Venezia Ma non è un feca con la Venezia Venezia è una pasta striscente E' una cosa che sono Perciò Lo devi fare Come l'ho fatto la Venezia Pasquale Dica pesante Vieni tutto Sono freschi Sì Sono venuto in bagno La voce Sì Sono giunto così E' una buona Tutto su La tua ciotto Ovviamente Non si vede più alta Ok E' tutto Guarda via La vostra regna Diventa Tutto un po' Le minacce La raba russa In polvere Messa Sulla burbata Dalla fine Non riesci più A collegare I tre sapori E' lo sai Io tu fai La bufana La mia bufa Non mi baci Sulla burbata Sulla burbata Sulla burbata Io tengo rosario Lo ammetto Anche perché Lui a differenza Di noi tre E' uno chef Quindi c'è Quello che le guardo In più Allora Qui ci andiamo Porciocco Con lo ester mushroom Dalle atelle Con salsicce Prima di broccoli Qui c'è il posto tè Bombole e cozze Brambero e gnocco E qui abbiamo La pionda di pionda di gorgonzola E il crispy onions Buon appetito Grazie Grazie Signori Assaggione Sulla burbata di gnocchi E qui c'è Il fuoco Lo salio Diciamo che Il mio fraco è abbastanza freddino Non è arrivata a temperatura Però Il sabore è buono Il funghi è buono Ma è buonissimo Il sabore è buonissimo Salsicce E assolutamente Non può scendere Parliamo di questi ragioni Non con zola Zucca E cibo Per me Ci vuole Assolutamente Questa Salsa Non è più Per i giorni di oggi Forse Un po' di anno Ma è che La notizia è da uno Spanto Di cucina Un po' Però Noi devono anche capire Che io faccio parte Della nuova generazione E la cucina italiana Non è solo Spaghetti carbonara Pena matriciana E pizza mai venita Ora andiamo a tiramisù Il nostro tiramisù Cercherò di far capire A miei colleghi più anziani Che è ora di voler Vittarci un po' Per favore La nostra idea è il tiramisù La ricetta rispetta esattamente Cosa che è la tradizione Semplicemente L'intrattamento È innovativo Grazie Grazie Special Guardate Unusual Guardate Non è Normale Unusual 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 Tutto bene Affondiamo Il nostro secondo tiramisù Quello di là Allora ragazzi contenti Sì Sì Bene Anche io sono molto contento Com'è questo tiramisù E mi dice Cos'è È del genere Un minestra È del genere Simpatico La cosa Sì Vivo Sicuramente sorpreso Sì E ti ha messo Dalla salenda Però Il minestra Se lo vogliono Come lo faccio io Al bicchiere È del genere E non è Il minestra Ma È del genere Crescente E non è Poi vedi il suo istante abbastanza fresco, poi entro in una o di un istante di un alberto. Almeno ho dato 6 perché è il problema che ho, forse con la nuova generazione. Ho dato 7 perché la presentazione dell'aria era eccellente, mi è piaciuto. Ho dato 8 perché è un conto giusto. Allo stesso tempo ho dato 5 perché c'era di su, è una cosa nuova ma non ha fatto un classico. L'aria è una cosa più creativa che italiana, ma la futura è buona con tutta la materia di acqua. Interessante respirare il suo. Mi sono sentito in Italia? Diciamo solo il suo. L'aria ottiene 90 minuti. Al terramonti i piatti trasmettano innovazioni di freschezza, ma non sempre sposano il gusto dei ristoratori. Divisi anche da uno special considerato poco tradizionale. Ottimo però il rapporto qualità-prezzo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.